Cari amici telespettatori, si è chiusa brillantemente una brillante stagione di Ballando con le stelle, c'è stata la vittoria di Sara Di Vaire Lasse Mabberi e sorprendentemente è arrivato secondo Ettore Bassi e terza una ancora più sorprendente Milena Vucotis che con Simone Di Pasquale ha sicuramente sorpreso. Devo fare però alcune critiche a Millie nel senso che hanno riconfermato i giudici per l'anno prossimo, secondo me alcuni sono da confermare, altri meno come per esempio la Lucarelli e Mariotto che secondo me dovrebbero finire con Ballando perché hanno fatto troppe polemiche e questo non ci sta. Detto questo speriamo che ritorni questa trasmissione ma con altri giudici. va bene caro Lee Smith che come sempre fa il suo lavoro egregiamente ma altri devono stare a casa. Detto questo vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti e sempre viva il ballo! Ciao a tutti! Due One! Due One! Dueanne Vecindrando Vecind神 Queste due Grazie.